E' davvero una giornata direi storica questa per Carainati perché finalmente si va a riqualificare il centro. E la riqualificazione della piazza della frazione di San Zenone e degli Ezzelini parte dalla posa della prima pietra da parte del sindaco Fabio Marin. Un bel applauso! E' un progetto che si attendeva da tantissimi anni, tantissime sono state le proposte fino ad oggi, fino ad oggi che abbiamo dato il via a questi lavori che andranno a dare dignità al centro di Carainati. Al via il primo dei tre stralci nell'area nord della chiesa tra le vie San Pio X e Risorgimento. Qui verrà creata una piazza che avrà anche funzioni di parcheggi, dopodiché ci saranno gli altri due stralci, il secondo del quale creerà proprio la piazza che sarà tra la scuola e questa zona di intervento, di oggi e poi andremo a riqualificare il sagrato della chiesa. Presente anche lo storico Don Felice Boffo che con le sue 92 primavera ricorda quando da giovane veniva a giocare in questo prato Futura Piazza. Calpestavo questo prato da adolescente perché non c'era niente, non c'era nessuna iniziativa. Che significato ha per lei questa prima pietra? Da qui si parte per nuove mette, per nuove avventure. Costo e tempi? Allora il primo stralcio costa 275 mila euro e per fine anno dobbiamo concludere i lavori. Sono dei fondi che abbiamo reperito tramite PNRR e quindi li abbiamo portati a casa proprio per riqualificare questo centro. oppure. Grazie a tutti.